Sta per partire la stagione teatrale all'Ospina, che cosa c'è in cartellone? Sette appuntamenti a partire dal 20 novembre, Stivalaccio Teatro il primo appuntamento con Il Malato Immaginario, un grande e importante classico di Molière, per poi seguire con degli altri classici come Raffaello, creato e con gli scena Mattias Martelli, per poi raggiungere anche degli spettacoli di importante comicità come Alessandro Benvenuti, che avremo con noi a marzo, ad aprile Veronica Pivetti, di cui siamo veramente molto contenti di ospitarla, insomma una rassegna davvero che potrà permettere agli spettatori di uscire con un sorriso, di stare a teatro sereni e felici e di uscirne con un sorriso, ma allo stesso tempo con una riflessione, che è un po' questo il nostro obiettivo. Come si fa per abbonarsi o chi magari volesse scegliere un singolo spettacolo? Certo, allora innanzitutto abbiamo a disposizione la Proloco di Castiglion Fiorentino, che è aperta dal martedì al venerdì, la mattina, dalle 9.30 alle 12.30, per chi vuole consultare il nostro libretto, chiedere dei consigli sugli spettacoli, informazioni, e lì sarà possibile prenotare l'abbonamento e pagarlo in loco, altrimenti sono a disposizione personalmente io con il mio indirizzo mail, i miei contatti che trovate sui social, su tutti i nostri canali e sul libretto per effettuare la prenotazione del posto e online attraverso la piattaforma WebTIC. Ecco, il teatro, magari anche teatri così, un po' di provincia, insomma, sono comunque sempre delle bellissime realtà e soprattutto delle opportunità per i cittadini. Assolutamente, assolutamente. Noi invitiamo un po' tutti i cittadini di Castiglion Fiorentino e non solo a sfidarsi a fare questo abbonamento, perché comunque abbonarsi non significa solo essere presenti a teatro, che è fondamentale, ma significa anche essere presenti all'interno di una comunità, comunque sostenere le associazioni che gestiscono la stagione teatrale, sostenere il comune appunto che ci ha affidato il teatro e ci aiuta, insomma collaboriamo per creare una stagione che pensiamo sia ottima per i nostri ex abbonati e per i nuovi. Significa un po' essere parte di un territorio come Castiglion Fiorentino, che è comunque un territorio vivo ma ha bisogno della presenza dei cittadini.